Se si ritorna a distanza di mesi con il Palon Stresa, allora ragazzi, sono passati tanto tempo dall'ultima volta che ci stanno detto. Un anno lunghissimo. Nuove investi, nuove cessioni. No, abbiamo preso due o tre ragazzi nuovi e abbiamo fatto una mossa per rinforzare la rosa, cedendo tipo 11 giocatori e rinforzando la rosa. Però siamo questi e proviamo a fare il nostro campionato, insomma. Non è che devo stare qua a rinforzare via, non è di strano. Sì, oggi giornata dura contro una squadra abbastanza ostica, però... Ah beh, loro... Che li avete tenuto testa? Comunque, sì, loro erano chiaramente più attrezzati di noi, più giovani di noi, più veloci di noi, più tutto di noi, però abbiamo più o meno... Più o meno abbiamo resistito, poi per sbaglio magari poteva entrare anche il tra tre non è entrato, per ogni tra tre nostro che non è entrato ci sono 1.4-2 loro che non si è attrae, quindi bravi loro, noi potevamo fare di più, però... Ma dai, tre a due? Sì, tre a due, ma Riccardo... Riccardo! E lui mi dice quattro a due! Ma che cazzo dici? Sì, ma... Comunque, la prossima... Provo italiano che qua si dice, comunque... No, la prossima siamo in casa contro Paruzzarello, speriamo di far bene, tanto che noi vinciamo su Novezzo e lontano facciamo figure, quindi niente, speriamo che vada bene, e niente, se hai altre domande, quando volentieri, però sennò... Un po' calvo fa l'altra parte, tantissimo. Grazie a tutti!